ciao Gianni Petrucci sacchetti non è che possiamo tenere la vita siamo tutti pro tempore MVP miglior giocatore di giornata Andrea Cinciarini perché se settimana prossima domenica prossima che è l'ultima di campionato putacaso Cinciarini dovesse tira fuori due assist che mi pare abbordabile no? volevo dire due assist chiuderebbe la stagione in doppia doppia di media punti e assist ci ha messo poi in avanzatempo due triple doppie reggio ai playoff pare l'ultima stagione di Pozzecco a Capodorlando però meglio se possibile Cinciarini se vuoi un consiglio non dare retta a Petrucci la pallacanestro ha ancora bisogno ha ancora bisogno di playmehe puri capito? a Gotham hanno i playmehe segnale proiettano proprio una luce con una qui in cielo e quando c'è il playmehe segnale arriva Cinciarini con il mantello pebbenino e tutto migliore italiano Nico Mannion perché questo qui questo giocatore qui che quando ha un pochi di minuti gioca in questo modo qui sarebbe sulla carta da un punto di vista proprio no? gerarchico istituzionale è tipo il quarto playmehe della squadra perché Ahet Teodosic Paiola e poi Nico Mannion e ci sarebbe anche Ruzier poi tanti di questi giocano giocano guardia ma insomma per capire la Virtus nel nostro campionato quanto a playmaking esclusivamente quanto a playmaking è come boh un acquapark aperto H24 nel deserto di Sara con i beduini sugli scivoli e tutta quella roba lì Treviso contro Virtus Bologna bocciato l'approccio la sensazione che c'è stata è che Treviso proprio in partita non ci sia neanche rimbarsata nemmeno cioè proprio la Virtus giocava un altro sport faceva un altro gioco e questa è stata la cosa settimana prossima l'ultima di campionato ne approfitteremo anche per fare un po' un bilancio di tutta la stagione ce ne saranno di cose da dire per ora mi limito a dire che ai tempi della mensana quando l'ho potuto osservare da vicino Eric Green fu il mio più grande punto di delusione rapporto aspettative che avevo potenziale del giocatore e poi rendimento Eric Green fu la mia delusione più grande dopo Justin Hamilton Justin Hamilton inarrivabile promosso Amedeo tessitori perché questa partita qui ha dimostrato che sì Giaite è arto è grosso è bravo sa gioare ma avere anche un plotone di passatori di palla come quello che c'ha la Virtus se sei un lungo se sei un centro tipo Giaite tipo tessitori è insomma no una mano te la dovrebbe da indicativamente l'ultima volta che ha treviso c'era un lungo che dava via un pallone come quello che ha dato Schenghelia dietro la schiena l'anno dopo giocava con Jordan Pippen e questo qui di dietro picchiato anche in il mirofono Milano contro Brindisi promosso Troy Daniels perché senza strafare senza bisogno no se semplicemente fosse stato questo giocatore qui per tutto l'anno magari Milano non sarebbe intervenuta sul mercato a stagione in corso per pigliare Bardasso per pigliare Kinn magari potrebbe essere arrivata anche alle Final Four magari avrebbe preso un lungo perché non era intervenuta sul mercato per comprare il Pellame che al mercato mio padre comprò ovviamente non ha senso ragionare in questo modo qui però c'è un dato statistico interessante questa tra campionato Eurolega Coppa Italia e Supercoppa è la prima partita in assoluto in cui Troy Daniels supera quota 20 punti realizzati dice che siamo a fine ottobre Halloween novembre no maggio maggio bocciata la sfortuna di Brindisi ripeto bilancio stagionale settimana prossima Brindisi ha sbagliato tante scelte quest'anno ma oltre alle scelte sbagliate insomma ci ha avuto anche un pochino di sfortuna due cose volevo dire uno che è stato il miglior realizzatore della squadra ha fatto canestro da metà campo non ha giocato neanche particolarmente male però io personalmente proprio parere mio spassionato soggettivo se dovessi scegliere per Brindisi per Brindisi per i prossimanno per Brindisi per i prossimanno tra Gentile e Visconti continuo a preferire Visconti seconda cosa l'adesivi secondo me non c'entrano nulla a questo giro con Harrison e l'infortunio dato comunque per l'assodato e per me l'adesivi sono come Deziu cioè sono dalle vare come Deziu che tra volte non ha giocato fortitudo Bologna contro Napoli bocciata la stagione la stagione dalla questione repegia mai definita proprio fino ai miei si sa quello è da lì fino alla scelta poi di Antimo Martino mercato di riparazione la gestione delle rotazioni post scelta di Martino e mercato di riparazione per arrivare alla retrocessione davanti al pubblico di casa cioè al paladozza che è una roba una mancanza proprio di di appartenenza di rispetto quasi nessuna tifoseria si meriterebbe mai una roba di questo genere vedere la propria squadra retrocedere davanti al proprio pubblico ma in particolar modo quella della fortitudo ieri più che una gara a servezza sembrava la finale di Eurolega non lo so io è quasi trent'anni tra pochino che seguo la pallacanestro e ho passato gli ultimi martedì degli ultimi mesi a dire sempre la stessa cosa e cioè che in quasi trent'anni io non ho mai visto una squadra salvarsi facendo le scelte e via via passo passo stava facendo la fortitudo se l'ho capito io secondo me lo potevano capire tutti promosso Arturas Gudaitis perché ha giocato una sola partita da quando è arrivato lui ha giocato una quelle altre volte non c'era una partita l'ha giocata bene l'ha giocata bene e però era bella buona e quindi vabbè non pensavo di poterlo dire però non lo confermerei al di là di tutto perché va bene era bella buona ma è sempre una era per cui io spianerei tutto il settore stranieri a parte Parks che tra l'altro ha già rinnovato e poi ripartirei da Buscaglia e il core italiano che poi è quello della promozione settimana prossima insomma se ne parla di Esteosivi Sassari contro Cremona promosso Piero Bucchi perché questa partita non fa particolare testo però a livello generale Bucchi pur ogni tanto facendo delle scelte che non condivido tipo la pochissima fiducia riservata a Treier e altre varie cose però è riuscito glieneva dato atto a prendere una stagione che fino a qui momento era una gran confusione per la Dinamo e a tirarci fuori una squadra con un'idea proprio di squadra e di come si gioca a pallacanestro ovviamente Miro Billan ha aiutato in questo senso ha dato una mano però oggi come oggi se io dovessi scegliere fossi un avversario e dovessi scegliere una squadra per un accoppiamento playoff preferirei Mazinga King Kong il cattivo di Action Man sei delle altre sette probabilmente ma non la Dinamo Sassari bocciato nessuno a questo giro è una partita che non neanche sotto certi aspetti uno potrebbe di calendario perché se mette in piedi una partita però in realtà anche il calendario in questo caso è incolpevole queste sono partite che vanno giocate perché sennò sfalsi il numero di partite giocate e la classifica però è una gara che non ha senso e quindi non è che c'è troppo da raccontarsela la cosa buona è che il Palaradi domenica prossima avrà l'occasione di salutare la Serie A in casa e quindi dare un ultimo saluto alla Serie A per quella che il rapporto tra possibilità economiche risultati ottenuti e soprattutto spettacolo messo in piedi sul campo secondo me è stata la storia in assoluto più bella degli ultimi anni Brescia contro Varese promosso John Petrucelli perché nazionalità e passaporto a parte che ci si sta lavorando anche in quel settore è l'unico giocatore di Brescia che oggi potrebbe essere preso proprio prelevato con la gru e aggiunto non sostituito aggiunto a una delle due big quindi Milano o Virtus Bologna anche in Coppa e troverebbe subito il suo spazio i suoi minuti perché è proprio un giocatore da big quindi non è il più forte di Brescia non è l'artefice principale della grande stagione di Brescia però è uno di quelli che ha reso solido il progetto e anche il telefono ci ha messo di suo ma più che altro è stato Petrucelli e se Brescia oggi è seconda lo deve anche a lui e chiaramente la terza ha capito telefono non era seconda ma se te sogni io poi dico le boiate bocciato Marcus Kinn perché io lo adoro e Varese secondo me dovrebbe vendere anche le seggiole di Palazzo per cercare di trattenerlo però a questo giro è numeri alla mano che c'ho lì uno su nove dal campo cinque falli sei palle perse meno dieci di valutazione partita steccata tipo Bugo a Sanremo Tortona contro Trieste promosso Mike Dom perché finalmente si è capito qual era il vero problema di Mike Dom il freddo perché è arrivata la primavera e nelle ultime tre partite io l'ho segnato 25 8 32 di valutazione 25 punti 8 rimbarsi 32 di valutazione media ovviamente due vittorie una sconfitta solo perché davanti c'era la Virtus Bologna consiglio playoff per Tortona tenere i condizionatori rigorosamente spenti non funzionanti stile Taliercio proprio dice beh e Draghi l'Ucraina e no perché gli si piace dalla grande se no bocciato i doppio centro maledetto il giorno e alla scuola degli allenatori gli hanno insegnati doppio centro ai nostri tecnici italiani io ho fatto una brevissima ricerca online tre partite senza Delia con Ate 26 di valutazione media due partite con Delia in ritorno con Ate 0 ovo niente ovviamente le tre partite tre vittorie di Trieste le due partite due sconfitte di Trieste io non so perché quando fanno le squadre i nostri in Serie A pensano tutti da vei sordi dei Lakers e quindi borda giù 10 12 15 giocatori no pochi 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 ma pochi ma boni eh tipo i miei i miei no eh insomma Trento contro Reggio Emilia bocciata la fatia mi verrebbe da dire di questa squadra perché questa questa partita rispecchia un po' tutto l'andazzo della stagione di Trento cioè buona salva il minimo è stato fatto e però poi no quando c'è da fare quel piccolo sforzo in più per provare eh non viene fuori questo grigiore generale una stagione che verrà ricordata io penso tra anni più che altro per l'esplosione di flaccadori non penso per nessun altro motivo c'era il potenziale secondo me per poter fare di più sia in generale che domenica più in generale a dire la verità che domenica perché domenica e nel momento in cui hai Dominic Johnson migliore in campo capisci che no già grazie a se hanno omologato la partita promosso Tyler Larson invece perché oggi proprio mi voglio rovinà tipo i baffo da crema quando vendeva l'orologio oggi complimenti a Dominic Johnson promozioni di Tyler Larson oggi proprio sì era oggi cinese il gioco per far uscire il gioco nuovo 2k23 oggi lo dovevi far uscire Pesaro contro Venezia bocciato V Samford perché rischia di aver cominciato forte l'inizio del campionato e però poi di chiudere incalando sempre sempre peggio rispetto a Elston Turner era uno dei paragoni che veniva fatto soprattutto d'estate a inizio stagione precampionato la supercoppa diciamo che come numeri non sono neanche così tanto diversi Turner un pochino meglio ai tempi di Pesaro ma insomma non so ne ha i numeri più o meno il fatto è che poi se ci dovesse essere un tiro per vincere la partita io vorrei che lo pigliasse Elston Turner mentre V Samford vorrei che stesse il più lontano possibile ma non dalla palla proprio dai campo promosso Mitchell Watt perché i numeri di questa stagione sono praticamente gli stessi di quelli che fece alla prima esperienza in Serie A a Caserta soltanto che sono passati sei anni che comunque sei anni all'interno di una carriera di un giocatore no insomma volevo dire e poi soprattutto a Caserta quell'anno lì non c'aveva riserve e faceva coppia sotto canestro con Raphael Patni che quando c'era vento lo dovevano legare il canestro perché se no gli volava e basta il pagellone è mancato per un paio di settimane siamo tornati ci sarà salvo sconvolgimenti anche settimana prossima settimana prossima però probabilmente come vi dicevo sarà un po' un pagellone più diciamo riassuntivo generale di tutta la stagione anche perché poi i grandi obiettivi sono già stati raggiunti le retrocessioni i primi posti mancano giusto la lotta playoff e quello sarà il motivo gli ultimi posti playoff il motivo del contendere dell'ultima giornata perché se no il grosso è andato ci si vede in frattempo giovedì alle 6 e mezzo credo spero ma devo vedere se ci sono partite terze che magari possano entrare in mezzo da Cinoia su Twitch il gruppo di recupero se non mi so addormentato prima perché viaggio a una media di ore di sonno che manco Gian Salumo come media fonti per la parte a un po' a un po' a un po' a un po' si a un po' Grazie a tutti.